Siamo in treno verso Tiburtina, faremo Moschano verso Fiumicina e già mi si sono rotti gli occhiali Qui c'è Ferdin, sono Marika che sta accusando, tutti dormono, tutti dormono Vai Marika Siamo... dove siamo? Quindi trasferimento in aeroporto in 3, 2, 1 Wow! Siamo in aeroporto e abbiamo fatto check-in, abbiamo fatto Meralde Declor E ora siamo in fase riorganizzativa totale A me si A me si Siamo arrivati adesso a Malta Dopo sono qui, perdi un bagno Che pensi? Presto che non resisto Questa non è Ibiza Ma a me va bene lo stesso Ad arrivare all'albergo, alla casa Quindi... Ci siamo persi perché non troviamo il 44 Tutti hanno fame e c'è la possibilità che la casa che abbiamo bloccato però non abbiamo pagato non esista Ed è molto 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 divertente Se non è così Cioè se è così che non esiste Ferdi che pensi? Amigos Aggiornamenti... a breve Siamo... dove siamo? In un Irish pub che è tutto tranne Maltese Perché appunto è Irish L'abbiamo ordinato, siamo in attesa della notizia dall'amico Chris Lei sta morendo Marika Marika E niente Abbiamo trovato Il tizio della casa E Stiamo aspettando che arrivi Pare che la casa esista Pare che qualcuno esista E forse non dormiamo in mezzo alla strada Da costoggi Quindi... taglio bruscoli La casa è stata ritrovata tutto a posto Siamo... Coperti da delle mura E già stanno recuperando le forze Alcuni E chi invece Si adatta 3x3 fa 33 Siamo super eleganti per il Mc Donald Se dovessero dirmi stasera che fatti Che fatti? Grazie Chi lo trova vince un Allora Raffa ha preso Il Mc Plant Cos'hai da dirci? Ti va assaggiato? Vai assaggia First reaction Without potato Aspetta aspetta Va va mordi Aspetta vai vai Mordi 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 Non è male il snog E' acerbo Cioè il voto che darei è... E' in mezzo Acqua Comunque Ci fermano... Cioè lo fermano E' raccontato Tutto vero Tutto vero Sono i marci ragazzi Sono lì S'hanno fatto pure la foto Facciamogli vedere la foto Vabbè la foto Apparirà qui La foto Loro che si sono fatti la foto con... Ma erano convinti? Vabbè L'importante è stare al gioco Ma lo sai che io l'ho usato per fare un video Se non l'ho scritto Eh Eh Aspetta No ma sto registrando Sì Le 2.38 Del secondo giorno E siamo ridotti Dopo una grande partita di Zenga Zenga Gabriele Zenga Ciao Gabriele Non vuoi fare il Zenga? Oh no Zenga Eh Vabbè Ora burracone Stasci a salutare con le carte 1 Maro Ferdiciunga è verde Ora è... Che luce esce? Blu Una corza Napoli Berg cosa hai da dirci? No Ah ma Berg vuole una gomma Chiara Berg basta che me lo dici No vedi Tu lo sai Basta che me lo dici Anzi Facciamo felici tutti quanti Tieni Tieni Tu passi che me lo dici Io le cose te le porto sempre Che schifo Se senti che non vai esquivo non vai esquivo ti piace il limone a te se la si vede, se la ti vede, sei nera oh è fatto così, stai diventando chiara sbiancamento anale cosa? no, mi distorcio Malumbo cosa hai da dirci? qualcosa che non sia? sbiancamento anale sbiancamento anale sbiancamento anale eeeh 15 e' il grancho e' il grancho uuuuuf 9 god 15 10 15 15 15 15 15 operazione andata a buon fine siamo in stanza giorno non so quale è la situazione è la seguente una pagina giorno 3 oggi quella è una pentola di tre pacchi grandi di se che mattia sanato c'è la roba vetu o vado io fai mora cinese per chi va sotto la doccia 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 affanculo buongiorno oggi è venerdì non so che giorno numero quarto giorno non sappiamo qua o quarto o quinto giorno io e la matta abbiamo dato spettacolo oggi andiamo in barca al lago blu lagoon blu un bel comino sta andando sta andando la vacanza la vacanza sta andando andando tornassi noi spresti di stanza è questa sia no 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 shake that every day i'm shufflin 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 step up fast and be the first girl to make me Oh no! Un po' di più! Un po' di più! Oh no! Che da una! Oh no! No, ma non è... Tutti i nubeschi, quella sta muorendo, quella sta muorendo, lui è stato stancho, lei sta meglio di me anche se è malato, lui è lupo, io ieri e i freddi siamo tornati alle 6.10 e sono le 11, che sono? Quasi metto giorno, Fertina la serata di ieri, Colombia, Messico e Germania, no sense. prima cosa? Sì, 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 sì Scandisci, scandisci And there will be happier No, si apre dopo, si apre dopo No, don't let you go No Ok 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 Allora siamo on the fly Ok 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 Bello prima Ma Allora siamo di ritorno sull'aereo per Rumar Una volta arrivati a Rumar Quanto ci aspettano? Sei ore di attesa Ok 8 Sì 8 ore d'attesa per il treno Dopodiché Quattro ore in treno Se tra dieci ore saremo a Napoli, forse, napolicesi. 8 di sera a bel tempo si sta. 8 di sera a bel tempo si sta. 8 di sera a bel tempo si sta. 9 di sera a bel tempo si sta. ma già non ti bussiamo Grazie a tutti